Qual è la pagina di un contratto nazionale o non nazionale di lavoro che ha un libro da 250 pagine e io continuo a chiedermi come diavolo si fa a immaginare che il rapporto tra una persona e un pezzo decisivo della sua vita che è il lavoro possa essere rappresentato da un libro che è più grosso dei Promessi Sposi e scritto decisamente peggio e tu vai a farti la domanda e dici cosa c'è dentro quelle 250 pagine? Praticamente tutto, a che ora arrivi, cosa fai, come ti vesti, devi sorridere quando arrivi il cliente se vai a fare la pipì ci puoi stare 15-3 minuti, 2, quello che è, ti fa la multa vai a cercare la pagina nel contratto dove si capisce qual è la relazione tra Poletti cittadino, Poletti lavoratore e l'opera il risultato del suo agire nel contratto di lavoro non c'è e ci può essere allora un contratto che regola la relazione di un pezzo decisivo del sottoscritto, del mio io, con la mia vita e il mio lavoro che è, tra virgolette, esclusa e come faremo allora a scrivere i nuovi contratti? Che vuol dire metterci in relazione col risultato, cioè l'opera ciò che facciamo quando il lavoro diventa capacità creativa, intelligenza, passione, voglia di fare, curiosità, senso di responsabilità noi abbiamo contratti che misurano entità fisiche, le ore, l'ora lavoro, nel luogo di lavoro ma oggi possiamo considerare ancora l'accezione luogo di lavoro come l'abbiamo storicamente conosciuta a me arrivano delle mail a luna di notte a casa mia che sono a letto può essere definito il mio letto luogo di lavoro? dal mio punto di vista no e però quanto me lo devo far pagare io la risposta che mando alla mail a luna di notte del sabato? festivo, domenicale, straordinario, costo 600 euro e nel contratto cosa c'è scritto? Niente allora noi abbiamo bisogno di ripensare profondamente